Allora sono qua in Google Classroom della mia quinta, della quinta M e ho fatto un video e poi l'ho collegato come ho fatto a vedere in un altro video però mi sono accorto, qua in stream mi sono accorto che però volevo anche condividerlo con l'altra quinta adesso dovrò andare nel corso dell'altra quinta e rimetterlo invece c'è un metodo per farlo tutto in un colpo solo e dunque, me ne sono accorto dopo, sarebbe condividi qua poi aggiungerò il link di YouTube o quello che voglio del file e qua vado a selezionare anche quinta A in questo modo due corsi qui l'importante è ricordare se non si può tornare indietro qua, perché ormai l'ho mandato o lo elimino, lo rifaccio ma non ha senso lo faccio poi nell'altra e dunque qua l'importante è questo ok, così lo mando sulle due classi potrei anche mandarle su tutte le mie classi che ho ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci